Al via con pescaiola da vivere un'estate a retina ricca di eventi, la formula dello shopping notturno con bar, ristoranti e negozi aperti funziona sempre, soprattutto in un quartiere come questo solitamente sottoposto ad una mole di traffico importante e che invece per una notte torna a respirare. Premiati per questa sesta edizione le attività commerciali più longeve, in quattro hanno ricevuto il riconoscimento quartiere nel commercio, una di esse ha addirittura la stessa età, 56 anni del suo attuale proprietario. Sì, preciso, io sono nato agosto e loro hanno aperto il 12 di giugno. Io ho visto nascere i miei figli lì dentro, un pezzo di cuore è sempre lì. Si tratta di tanto sacrificio, c'è da starci dalla mattina presto fino alla sera tardi, qualche volta tocca tornare anche la domenica a preparare. Cambiate le regole, vi? No, 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 anzi, ora è più difficile di prima. Oggi è un mondo che purtroppo si sa tutti come e allora bisogna ancora di più darsi da fare. Rimanere in piedi, insomma, nonostante tutto al giorno d'oggi è una notizia e quando accade è bene sottolinearlo anche con eventi come questo che portano allegria e spensieratezza almeno per una notte. Quello che dobbiamo fare è convincere i nostri negozianti che questo modo di vendere può continuare a avere la sua filosofia, la sua realtà e i suoi successi. Ci si prepara ad un'estate ricca di eventi? Assolutamente sì, che porteranno ad Arezzo un sacco di gente e quindi anche Pescaiola ne potrà trarre, spero, il vantaggio che si merita. Assolutamente sì, che porteranno ad Arezzo un sacco di gente e quindi anche Pescaiola ne potrà trarre, spero, 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 spero.